Il presidente de Bonfant, che aveva soppresso il patronimico Crochot, non giunse a vedere avverati i suoi sogni ambiziosi, e gli morì una settimana dopo la sua elezione a deputato di Saumur. Dio, che osserva ogni cosa e non colpisce mai a vuoto, volle certo punirlo così dei lunghi calcoli e della sottile arte giuridica con la quale Accurante e Crochot aveva preparato la minuta del suo contratto di matrimonio, in cui i futuri sposi si donavano reciprocamente, nel caso non nascessero figli, l'universalità dei loro beni mobili ed immobili, senza eccezioni o riserve in piena proprietà, dispensandosi anche dall'obbligo dell'inventario e con espressa clausola che la omissione dell'inventario medesimo non possa eccepirsi dagli eredi e da venti causa, dovendosi ritenere la donazione in parola, ecc. Clausola questa che spiega il rispetto assoluto di lui per la volontà e la solitudine della signora de Bonfant. Le donne lo indicavano ad esempio di speciale delicatezza e compiangendolo di quando in quando non risparmiavano ciarle maligne sul dolore e sulla passione di Eugénie. Bisognava credere che la presidentessa fosse proprio malata per lasciare così solo il marito, povera donnina, guerrirebbe presto? Ma cosa mai aveva una gastrite, un cancro? E perché non consultare dei medici, non ricorrere alle prime celebrità di Parigi? Da qualche tempo si era fatta gialla gialla, possibile che non desiderasse un figlio? Affermavano che la portasse affetto allo sposo, ma allora perché negargli un erede nel grado in cui egli si trovava? Era orribile davvero, e tanto più riprovevole se ciò faceva per capriccio. Povero presidente! Forte di quel particolare intuito che il solitario acquista ed affina con la meditazione continua e col modo squisito di considerare le cose che si svolgono nel proprio ambiente, avvezza dalla sventura e dall'ultima esperienza a indovinar tutto, Eugénie sapeva benissimo come il presidente desiderasse la morte di lei per essere in possesso delle immense sue ricchezze, cui si erano aggiunti i patrimoni di suo zio notaio e di suo zio abate, che il signore aveva voluto chiamare a sé. E la provvidenza pensò a vendicarla di disegni dell'apatia infame di uno sposo che rispettava, quale precipua garanzia, la passione disperata di lei. Mettere al mondo un bambino non era forse come troncar le speranze dell'egoismo, le gioie dell'ambizione carezzate da quell'uomo? Dio largì quindi cumuli d'oro alla mestre clusa, alla quale quell'oro nulla importava, e che tendeva al cielo, pia, buona, instancabile soccorritrice dei miseri, in segreto. La signora de Bonfort rimase vedova a 36 anni, ricca di 800.000 lire di rendita, bella ancora, ma come lo è una donna sulla quarantina. Nel viso bianco e placido, nella voce mite e soave, nelle semplici maniere, mostrava la nobile dignità del dolore, la purezza di chi non ha macchiato l'anima a contatto del mondo. Malgrado la enorme rendita, ella visse come già aveva vissuto la povera Eugénie Grandet, facendo accendere il fuoco in camera all'epoca stessa in cui una volta lo permetteva suo padre, e curando che fosse spento pure nei medesimi giorni. Vestiva come un giorno sua madre, e la casa di Saumur, priva di sole e di calore, immersa in una triste ombra continua, poteva considerarsi l'immagine della sua vita. Accumulava sempre le rendite, ma per usarne in pie istituzioni caritatevoli, in un ospizio per i vecchi, nelle scuole cristiane, per i fanciulli ed una ricca biblioteca pubblica. Anche le chiese di Saumur dovettero a lei tante bellezze, quindi un religioso rispetto circondava la signora de Bonfant, che per scherzo chiamavano ancora Signorina. I calcoli dell'interesse umano tuttavia giungevano a pesare fin sul nobile cuore aperto ai più dolci sentimenti, e il denaro comunicava le tinte sue scialbe a quella vita celeste, insinuando la diffidenza dell'affetto a chi d'affetto era assetata. Tu sola mi vuoi bene sinceramente, e la diceva Anna no. Parigi, settembre 1833. la cuore accionale città 3.